Ciao ragazzi, come va? Guarda, sono stanco perché ieri non ho dormito perché ho dovuto guardare mia sorella e visto che mia madre e mio pare dovevano andare a una cena e ho dovuto guardare ci siamo messi sulla poltrona è piccolina, ci siamo messi sulla poltrona e ci siamo visti un po' di televisione Rock TV e ci siamo addormentati tra cui ci siamo visti The Beach Boys Jimmy Hendrix che mi fa morire con la chitarra quando fa il tapping è un po' f***o tra, vabè e e facciamo perdere ho già sbagliato sto video la sto rifacendo meno male che non se lo cade a nessun sto video e va bene posizioniamo la web gamma un po' è fatta sono le vie per la rigenza sta cosa qua c'è una cosa del genere che fa puoi far portare in grebo il tuo figlio da qualcun altro cioè tu prendi in Italia non è possibile in India o in altri paesi non ricordo è possibile è legale però ha problemi di fatto tu prendi il lovolo della semina e il libro si muove mi metti insieme la via non mi accogli molto bene e poi si fa questa te lo porta in grebo per 5, 8, 9 mesi e 8 mesi e poi hai fatto te lo prendi e te lo porti a casa tu vuoi scegliere come te lo prendi come te lo deve fare come te lo porta come te lo deve gestire ecco e basta e poi te lo porti a casa ma è per 800 mila ma dai se lo fanno cosa così c'è dai c'è non lo so figli è tuo quindi poi c'è stata un'altra casa della ufficità di Dario Argento nella collezione di film di Dario Argento hanno finito i lavori no non mi hanno proprio finiti hanno messo hanno fatto la camera di mia sorella finalmente e poi con grande sorpresa hanno fatto non so che c'erano delle mattonelle giustamente che andavano un pochettino male cosa abbiamo fatto noi i geni questa roba qui questa sarebbe una patina lui era la e la lucida Dario si sfilava come una sfrescia e un attimo e qui c'è la lampada per scaldare tutto è una patina aspetta una patina che fa in modo di mettere in piano invece di invece di aspetta invece di stare una specie di cemento tu usi quella cosa lì perchè poi vabbè è pure più economica non ho capito neanche che cazzo vuol dire vabbè ragazzi noi ci vediamo alla prossima ciao